digital way il focus sulla human digital transformation con nicolò cappelletti un saluto a tutti e benvenuti alla prima puntata di digital way la rubrica che approfondirà i temi della digital transformation con un focus sul mondo della digital communication analizzandolo da un punto di vista di brand e di persone ogni settimana affronteremo assieme diversi approfondimenti con l'obiettivo di snocciolare comprendere questi cambiamenti dovuti al vortice digitale che da 20 anni impatta nelle nostre logiche comunicative nelle logiche di branding ma soprattutto valuteremo assieme gli impatti che questi cambiamenti hanno avuto all'interno della nostra quotidianità affrontare i principali avvenimenti storici del web i principali fatti che hanno caratterizzato l'evoluzione che noi tutti oggi stiamo vivendo prenderemo in esame le principali case history del settore al fine di poterne cogliere gli aspetti salienti e le modalità con le quali oggi sviluppare una strategia di comunicazione d'impatto e realmente significativa per le persone digital way nasce infatti dall'esigenza di tracciare una nuova strada per accogliere le diverse modalità con il quale il mondo online e quello offline spesso possano integrarsi al fine di sviluppare comunicazioni che siano di valore per i brand e soprattutto per le persone cercheremo di mettere in luce i delicati e innovativi aspetti di questa sempre più rapida l'evoluzione digitale non mancheranno spunti di riflessione consigli approfondimenti sarà sempre più interessante cercare di affrontare questi avvenimenti con l'obiettivo di cogliere i nuovi orizzonti per il futuro del panorama comunicativo odierno ma soprattutto per avere gli elementi necessari a identificare i trend futuri ogni puntata affronterà una tematica ben precisa e terminerà con l'appuntamento delle keywords un momento che diventerà tradizione di digital way nel quale vi lascerò le parole chiave emerse durante la puntata stessa così da poterle utilizzare per eventuali approfondimenti futuri o semplicemente per tenere traccia di quelli che sono stati e saranno gli argomenti della rubrica per oggi è tutto vi saluto e vi aspetto per la prossima puntata di digital way digital way il focus sulla human digital transformation con nicolò cappelletti